C'era anche Stefano Arcuri, marito di Paola Clemente, la bracciante tarantina morta 5 anni fa nelle campagne di Andrea all'incontro organizzato a Lizzano dalle Sardine, nella tappa tarantina del Tour Nazionale. Con Stefano Arcuri hanno partecipato al dibattito anche gli avvocati che per la Fly CGL seguono importanti processi in materia di caporalato e alcuni braccianti che hanno deciso di raccontare le loro storie accanto a imprenditori che hanno realizzato realtà di successo seguendo la duplice direttrice della sostenibilità e del lavoro etico. Lo sfruttamento sta continuando, c'è una legge però ancora non è rispettata al 100%. Purtroppo sono delle tematiche che si porta, specie qui nel Meridione, da tantissimi anni quindi anche se ci sono dei controlli non riescono a debellare ancora questo problema dello sfruttamento del lavoratore. Cosa le diceva sua moglie prima della tragedia? Vi posso dire semplicemente che il lavoratore che va in campagna non si può assentare neanche un giorno, quindi anche se tu stai male sei costretto ad andare a lavorare. Quindi anche se uno si sente male va a lavorare lo stesso sperando che non succeda niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.